Buona giornata a tutti, benvenuti. Prego di accomodarvi. Buona giornata a tutti. Iniziamo questo solenne atto accademico di inaugurazione del nuovo anno di studi 2023-24. Invito a prendere il posto sul palco i nostri ospiti e autorità accademiche, sua eminenza reverendissima il Cardinal Angel Fernandez Artime, nostro gran cancelliere, reverendissimo Monsignor Giovanni Cesare Pagazzi, segretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, e professor Andrea Bozzolo, nostro rettor magnifico, al quale subito dopo do la parola per il suo saluto iniziale, la presentazione degli ospiti e la sua relazione sull'università nell'anno passato. Eminenza reverendissima gran cancelliere, eminenze ed eccellenze reverendissime, signori ambasciatori, magnifici rettori, illustri autorità, stimati benefattori, chiarissimi professori e docenti, cari studenti, cari dipendenti, collaboratori, amici tutti, un cordiale benvenuto all'Università Pontificia Salesiana in occasione dell'atto ufficiale di inaugurazione del nuovo anno accademico 2023-2024, 84esimo dalla Fondazione. Ringrazio tutti gli ospiti per la loro presenza, in particolare il Cardinale Oscar Rodriguez Maradiaga, che è presente qui tra noi, lo ringraziamo veramente in evidenza della sua presenza, Monsignor Daniele Salera, vescova ausiliare di Roma del settore nord, Monsignore Enrico del Covolo, la Vicaria Generale delle Fili di Maria Ausiliatrice, Son Maria del Rosario Garcia Ribas, i rettori della Pontificia Università della Santa Croce, del Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, dell'Università Europea di Roma, la preside dell'Ausilium, la rettrice di Uni Nettuno, la prorettrice dell'integrazione e impatto sociale dell'Università Campus Biomedico, i rappresentanti dell'Università Gregoriana, della LUMSA, della Scuola dello Sport, del Presidente dell'Avepro, Don Armand Puig i Tarek e tutte le altre autorità civili, militari e religiose che sono presenti tra noi. L'anno accademico 2022-2023 è stato solennemente inaugurato il 19 ottobre con la prolusione molto bella che ricordiamo del Professor Monsignor Piero Coda, che ha sviluppato il tema dell'anno Ripensare il pensiero, Ascolto dello Spirito e Intreccio dei Saperi. La comunità accademica ha vissuto due importanti momenti d'incontro sul tema Forza della violenza e Potere della pace, un tema che drammaticamente continua a restare così attuale anche nei nostri giorni. Il 23 novembre abbiamo avuto il piacere di ascoltare i contributi di tre grandi personalità del dibattito culturale, il Professor Vittorino Andreoli, l'Onorevole Walter Albertroni e Monsignor Vincenzo Paglia, che hanno sviluppato rispettivamente gli aspetti psicologici, geopolitici e etico-spirituali del tema. Il 22 marzo abbiamo poi dato la voce agli studenti delle cinque facoltà che hanno rielaborato il tema secondo le specifiche competenze in cui si stanno formando in un dialogo ricco, intenso e partecipato. È stato molto bello vedere sui palco i nostri studenti che presentavano la loro relazione, i loro contributi e quest'anno continueremo con questo stile di protagonismo degli studenti. Tra le molte attività proposte dalla facoltà mi limito a ricordare il convegno su San Francesco di Sales, posterità, spiritualità, pedagogia, organizzato dall'Istituto di Spiritualità della Facoltà di Teologia per commemorare i 400 anni della sua morte. È stata un'occasione importante non solo per riflettere sugli scritti del nostro santo patrono, ma anche per far emergere la ricchezza della sua eredità e far incontrare per la prima volta, dopo 400 anni, i rappresentanti delle numerose e variegate famiglie religiose, associazioni che si ispirano alla sua spiritualità. Nel mese di dicembre ho fermato un accordo quadro con l'Università Cattolica di Budapest per avviare una collaborazione nella ricerca, nell'insegnamento, soprattutto con riferimento a temi di psicologia e pedagogia. Le feste salesiane sono state vissute con partecipazione e intensità. Ricordiamo nella solennità di San Giovanni Bosco la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Daniele Salera. Il 24 maggio abbiamo avuto poi celebrato la solennità di Maria Ausiliatrice con l'Eucaristia presieduta dal Cardinal Lazarus Jung, prefetto della Congregazione per il Clero, e in momenti di festa vissuti in un clima di grande amicizia, di grande gioia, veramente salesiano, predisposto dall'animazione offerta nei giorni precedenti dall'iniziativa Incontro dei Popoli che dà voce all'internazionalità della nostra comunità accademica. Ricordiamo con gratitudine l'udienza che il Santo Padre ha concesso a tutte le università e istituzioni pontifice romane il 25 febbraio. È il discorso illuminante e impegnativo che ci ha rivolto in quella circostanza, invitandoci a unire l'intelligenza delle mani, della mente e del cuore. L'anno accademico è stato caratterizzato dalla nomina di ben tre nuovi decani. Il 29 aprile il Gran Cancelliera ha nominato decano della Facoltà di Filosofia il professor Don Luis Roson Galace che è subentrato al professor Don Mauro Mantovani, nominato dal Santo Padre prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana. Il 26 maggio il Gran Cancelliera ha nominato decano della Facoltà di Teologia il professor Don Sayadas Fernando che succede al professor Don Antonio Scudero. Il 7 giugno il di Castero per la Cultura e l'Educazione ha nominato decano preside della Facoltà di Lettere Cristiane Classiche Pontificium Institutum Alzioris Latinitatis il professor Roberto Fusco che subentra al professor Don Miransajovic. Ai nuovi decani i migliori auguri di buon lavoro e a coloro che hanno terminato il loro servizio la riconoscenza per l'attività svolta e la fattiva collaborazione. Sono stati anche confermati per il secondo triennio i presidi delle sezioni della Facoltà di Teologia a Torino il professor Don Cristian Besso, a Gerusalemme il professor Don Andrei Tocischi. Significativo il numero dei nuovi docenti cooptati nell'università. Nella Facoltà di Teologia il professor Don Renato Tarsisio de Moraes Roca per la Cattedra di Teologia Morale II e Morale Speciale. Il professor Don Paveo Vontor per la Cattedra di Teologia Pastorale Giovanile Generale. Nella sezione di Torino il professor Don Giovanni Campanella per la Cattedra di Teologia Pastorale. Nella sezione di Gerusalemme il professor Don Vincent Raggio Giombosco per la Cattedra di Teologia Sistematica. Nella Facoltà di Scienze dell'Educazione il Gran Cancelliere ha cooptato il professor Don Josef Gerag Suominatan per la Cattedra di Psicologia dello Sviluppo. Nella Facoltà di Filosofia il professor Paolo Zini per la Cattedra di Filosofia Teoretica. Nella Facoltà di Lettere Cristiane Classiche il professor Don José Luis Lima de Mendonza per la Cattedra di Composizione Latina e Didattica delle Lingue Classiche. Il Gran Cancelliere ha inoltre promosso ordinario il professor Don Kevin Motieno Muanda nella Cattedra di Diritto Canonico nella Facoltà di Teologia, il professor Don Giostrom Curete Edam nella Cattedra di Filosofia della Scienza della Facoltà di Filosofia. Ha nominato docente stabilizzato nella Facoltà di Scienze dell'Educazione la professoressa Maria Libera D'Ambrosio con riferimento agli insegnamenti della Cattedra di Pedagogia della Famiglia e dell'Infanzia. Ha inoltre rinnovato la stabilizzazione dei professori Benzi, Colassanti, De Luca, De Nitto e Melonio. Dunque in un anno di attività crescono tante cose, figure nuove che arrivano, promozioni che portano avanti l'impegno accademico. Il 9 luglio poi abbiamo appreso con gioia che il Santo Padre ha eletto il nostro Gran Cancelliere a Cardinale di Santa Romana Chiesa. Li possiamo fare un applauso in questo momento. A Papa Francesco va la nostra gratitudine e al carissimo Gran Cancelliere creato Cardinale nel concistoro del 30 settembre le più vive e sentite felicitazioni. L'8 settembre ho nominato il professor Don Paolo Vontor coordinatore dell'Equipe di Pastorale Universitaria. Facendo memoria dell'anno vogliamo ricordare con affetto anche i professori che sono recentemente mancati. Il professor Don José Manuel Pregliezzo, mancato il 15 marzo, che dedicò la sua vita allo studio della pedagogia salesiana, fu direttore dell'Istituto di Teoria e Storia dell'Educazione della Pedagogia, del Centro Studi Don Bosco, dell'Istituto Storico Salesiano. E poi nell'estate il professor Don Paolo Carlotti, professore ordinario di Teologia Morale e già vice-rettore dell'Università, mancato prematuramente il 9 luglio. Il signore Doni a questi professori che hanno segnato a fondo la vita della nostra istituzione, il premio promesso ai servi generosi e fedeli. Veniamo ora al tema di questo nuovo anno, abitare la soglia, frontiere dell'umano ed esperienza di Dio. L'immagine della soglia ha una forza evocativa straordinaria, poiché unisce in sé i concetti di limite, di apertura e di passaggio. La soglia delimita lo spazio di un ambiente rispetto a un altro, in questo modo custodisce la differenza, impedendo il caos e la confusione. Per questo è simbolo di custodia, stare sulla soglia e avere il senso del limite, sapersi fermare di fronte allo spazio del privato, dell'intimità, della coscienza. La soglia però è anche apertura verso qualcosa di ulteriore, di sconosciuto, di inedito e si rappresenta il dischiudersi dell'oltre e porta in sé l'invito a raggiungerlo. Abitare la soglia in questo senso è avere il gusto della ricerca, il senso del sacro, il desiderio dell'invisibile. Infine la soglia è un passaggio da attraversare, una fenditura stretta in cui infilarsi, un varco da percorrere. Divene così simbolo dei grandi passaggi della vita, del nascere e del morire, del crescere e del costruire legami, dell'entrare nel mondo del lavoro e nell'esperienza dell'amore. Abitare la soglia è quindi un'immagine stimolante che può orientare con frutto il nostro lavoro accademico. La missione di un'università infatti è quella di abitare le inquietudini del proprio tempo, sostare con le risorse del pensiero sulle grandi domande della propria epoca, intercettare e dare forma agli interrogativi dell'esistenza quotidiana che spesso faticano a giungere a parola. Cogliere tali inquietudini con rispetto, attraversarle senza contentarsi di risposte preconfezionate e riconoscervi un'apertura sempre nuova al mistero della verità, a quella sete di cui abbiamo ascoltato nell'omelia e il senso del nostro impegno culturale. L'abbiamo rappresentato nel visual di quest'anno, che trovate proiettato anche qui sullo sfondo, attraverso la figura di una persona che sta in una soglia sottile, con un libro, cioè con le risorse della cultura e il coraggio del pensiero. La fede ci dice però che la scelta di abitare la soglia, prima che da noi, è stata fatta da Dio stesso. Il mistero dell'incarnazione parla del figlio eterno, il verbo del padre, che ha preso la nostra carne, ha piantato la sua tenda in mezzo a noi. Da quel momento non si può incontrare Dio se non attraversando l'umanità di Gesù di Nazareth, che è entrato nella nostra storia per rivelarci che essa è abitata dalla trinità divina, che vi effonde il proprio amore. Nel volto del povero, dell'umile, del sofferente, Dio stesso ha posto la propria dimora e non si può incontrare Dio scavalcando la carne del fratello. L'Apocalisse arriva a dirci che colui che abita la soglia è la stessa persona del risorto. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. La soglia dell'umano è abitata da una presenza, forte e discreta, che bussa alla porta del cuore per invitarlo a un'accoglienza. Forte e discreta, come la croce che è presente sul visual, tracciata sulla copertina del libro, tra le mani di colui, colei che sosta alle frontiere dell'umano, illuminato dalla scrittura. Prospettive di cammino. Quello rapidamente evocato è il cammino che in molti modi vogliamo percorrere nell'anno, nella pluralità delle voci e dei percorsi di studio della nostra università. Ci aiuteranno a concretizzare questa ispirazione i due incontri della comunità accademica che dedicheremo a una delle soglie di cui siamo fatti. La prima e la principale, quella del nascere. Ne parleremo a novembre con tre esperti di grande calibro, come il teologo Pierangelo Sequeri, la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi, il sociologo Pierpaolo Donati. E poi a marzo daremo nuovamente la parola agli studenti, come già fatto l'anno scorso, per sentire in che modo essi risuonano a questo comune riflettere che ci fa sentire e camminare insieme come università. Anche il grande convegno su giovani e sessualità, sfide, criteri, percorsi educativi, che si terrà dal primo al 3 marzo, andrà nella stessa direzione di intenti e di stile. Esso costituirà il punto d'arrivo del progetto triennale Giovani Affetti Identità, che ha visto impegnati nell'amoro comune i professori di tutte le facoltà, in cinque seminari, e il punto di avvio di un nuovo percorso formativo nella Facoltà di Scienze dell'Educazione. Tra le novità dell'anno c'è anche l'avvio del nuovo curriculum relativo al terzo settore, con il quale vogliamo offrire una preparazione mirata alle esigenze specifiche di questo ambito di attività, unendo la visione umanistica e solidale che promana dall'insegnamento sociale della Chiesa alle competenze tecniche, giuridiche, economiche, amministrative e gestionali necessarie per operare nell'economia sociale. Iniziamo questo nuovo anno nel momento in cui la Chiesa sta vivendo la sedicesima Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, cui io stesso ho l'onore di partecipare. L'instrumento Un Laboris descrive il processo che ha preparato questa Assemblea come una progressiva appropriazione e una comprensione della sinodalità dall'interno, che non deriva dall'enunciazione di un principio, di una teoria, di una formula, ma muove dalla disponibilità a entrare in un processo dinamico, di parola costruttiva, rispettosa, orante, di ascolto e di dialogo. Penso che questo dinamismo che sta attraversando la Chiesa non possa non avere ricadute anche per il nostro impegno accademico. Visitando le facoltà, i collegi docenti all'inizio dell'anno, ho detto per noi questo camminare insieme deve diventare realmente un pensare insieme, che non è pensare le stesse cose, pensare allo stesso modo, ma lasciare fecondare il proprio pensiero dall'ascolto dell'altro. Anche noi abbiamo bisogno di svolgere il nostro lavoro quotidiano di ricerca, di insegnamento, di studio, dentro un cammino condiviso. Isolarsi, sottrarsi al confronto, vedere solo i propri impegni e le proprie pubblicazioni, sono tentazioni insidiose da cui dobbiamo guardarci. Per questo dobbiamo portare anche dentro la nostra realtà universitaria, sempre di più, perché c'è già molto, ma sempre di più, la logica sinodale per sviluppare uno stile evangelico di comunione, missione e partecipazione. Chiediamo dunque al Signore per questo nuovo anno che si apre la grazia di sperimentare che il dialogo e l'ascolto reciproco nutrono il pensiero, lo arricchiscono e lo fanno lievitare fino a diventare una sapienza di vita che può illuminare le sfide del nostro tempo. Grazie e buon anno a tutti voi. Ho il piacere adesso di presentare il relatore che abbiamo invitato e che ringraziamo per la sua disponibilità, che terrà la prolusione per questo anno accademico sviluppando il tema ispirativo che abbiamo annunciato. Si tratta di Monsignor Giovanni Cesare Pagazzi, che è segretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. È stato professore ordinario di teologia sistematica a Piacenza, a Lodi, a Milano e poi di ecclesiologia e comunità familiare presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II di Roma. Ha collaborato con molte facoltà etnologiche e Università Pontifice, tra cui l'UPS della sezione di Torino, dove molte volte è venuto a arricchirci con il suo insegnamento, e autore di numerose pubblicazioni. Tra le principali citiamo Il pastore dell'essere, fenomenologia dello sguardo del figlio, in principio era il legame, sensi e bisogni per dire Gesù, fatte a mano, l'affetto di Cristo per le cose, e infine c'è posto per tutti legami fraterni, paura, fede. So che anche per la sua sensibilità teologica è molto vicino al tema che gli abbiamo fidato, allora do a lui la parola, lo ascoltiamo volentieri. Grazie Monsignor Pagazzi. Sono davvero onorato di essere qui e porto i saluti del prefetto del di Castero per la cultura e l'educazione, il cardinale Giosetto Lentino de Mendoza, in modo particolare a sua eminenza il gran cancelliere e anche al rettore magnifico che ci ha già insaporito il palato con le sue parole. Allora, il tema che mi è stato affidato, abitare la soglia frontiere dell'umano e esperienza di Dio. Appena il rettore magnifico mi affidò a questo tema, mi venne alla mente, mi è venuta alla mente ciò che io considero uno degli aspetti più promettenti, anche dal punto di vista teologico e intellettuale, del Magistero del Santo Padre Francesco. Non riguarda tanto il suo leitmotiv, la misericordia, ma l'esperienza del comune, cioè l'esperienza di ciò che accomuna la famiglia umana. Credo che questa sua insistenza sarà promettente negli anni a venire dal punto di vista teologico e pastorale. Vale a dire che, stando all'insegnamento del Santo Padre, l'esperienza comune a tutta l'umanità, le esperienze comuni a tutta l'umanità, la soglia dell'umano, sono capaci di dire l'esperienza cristiana. Cioè rappresentano l'ABC, il vocabolario di base per dire la singolarità cristiana. Con voi mi dedicherò a due o tre di queste esperienze. Questo approccio ad alcuni appare come una specie di indebolimento delle caratteristiche cristiane dell'annuncio. Una specie di anacquamento nell'esperienza universale appunto della singolarità evangelica. In realtà è vero proprio il contrario. È una considerazione forte di un pensiero forte e soprattutto della portata rivelativa di quella che noi chiamiamo creazione. Mi introduco facendo riferimento a un testo di Isaia, il capitolo 6 del profeta, e il testo, come ben sappiamo, della sua vocazione. Allora Isaia, che probabilmente è un sacerdote, si trova nel posto più santo del mondo. È nel posto più esclusivo del mondo. Si trova in Terra Santa, che è la parte più santa del mondo. A Gerusalemme, che è la parte più santa della Terra Santa. Nel Tempio, che è la parte più santa di Gerusalemme, che è la parte più santa. E probabilmente, in quanto sacerdote, è molto vicino al Santo dei Santi, che è la parte più santa ed esclusiva di tutto dove poteva apparirgli Dio, se non lì. E infatti gli appare. Gli appare attorniato da questo coro di Serafini, i quali dicono Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. E poi c'è un dettaglio decisivo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Dove gloria, sappiamo, è la stessa presenza operante, operativa di Dio nella storia. Ma scusa, Dio non è lì, in questo luogo più santo che più santo non si può. Ebbene, quel luogo santo che più santo non si può, in quel luogo risuona la voce che dice, guarda che Dio lo trovi dappertutto perché i cieli e la terra sono pieni della sua gloria. E la cosa interessante è questa, che potremmo dire che il luogo santo esclusivo, che è quello del Tempio, che è la fede di Israele, il suo onere, il suo onore, è ricordare che Dio è presente dappertutto. Se si interrompe questa dinamica, il Tempio diventa un feticcio, cosa che diventerà e che causerà l'esilio di Israele. noi cristiani, il momento più intimo e il momento più esclusivo di noi cristiani, sono noi che celebriamo questo mistero, la celebrazione dell'Eucaristia. Nel momento più intimo della celebrazione eucaristica, prima dell'epiclesi dove invochiamo lo Spirito Santo perché il pane e il vino diventino il corpo e il sangue del Signore, più santo non si può. Proprio lì noi ripetiamo le parole dei Serafini. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Se tu vivi quel momento che è esclusivo tuo in maniera escludente, escludendo il mondo, non hai capito niente di quello che stai vivendo. Quello che stai vivendo lì, solo tuo, è per insegnarti che il cielo e la terra è pieno della gloria di Dio. Altrimenti anche la celebrazione eucaristica diventa un feticcio. Allora, in questa prospettiva del andare a vedere la gloria di Dio dappertutto, vorrei appunto soffermarmi su tre esperienze tipiche che si incontrano dappertutto, perché sono tre esperienze che accomunano, eccolo qui il messaggio del Papa, che accomunano l'intera famiglia umana. Sono esperienze, almeno le prime, estremamente quotidiane, feriali. La terza sarà più caratteristica di questo ambiente. La prima esperienza, così universale, così comune, così umana da essere quasi considerata indegna di essere pensata. Cioè l'esperienza del bisogno, l'esperienza dei bisogni. Tutti sperimentano i bisogni, cristiani, non cristiani, religiosi, non religiosi. Tutti gli uomini, le donne, sperimentano, parliamo per esempio della fame. Il Rettore Magnifico prima parlava di questo futuro convegno che dedicherete a questa prima soglia che è la nascita. Ebbene, questa soglia che è la nascita è caratterizzata anche da questo grande passaggio. Il passaggio da un tempo dove ciascuno di noi aveva delle necessità, quando eravamo nel grembo di nostra madre, di essere nutriti, idratati, scaldati, avevamo necessità. Ma in quel tempo, nel grembo di nostra madre, noi non avevamo bisogno. Perché nostra madre ci nutriva, ci scaldava, ci idratava, prima che noi provassimo fame, sete, freddo o caldo. Ecco perché si parla anche dell'onnipotenza prenatale. Perché quando eravamo in quel tempo, in quel luogo, noi avevamo tutto, tutto ciò che è vitale, senza chiedere. Ora, questa soglia che è la nascita, rappresenta anche l'ingresso nell'economia dei bisogni. Da che siamo nati? Da che siamo nati? E la nascita è proprio, coincide con questo, entrare nel mondo dei bisogni. Da che siamo nati? Noi siamo stati collocati nel tempo e nel luogo dove cerchiamo di capire, sperimentiamo innanzitutto sulla nostra carne, che quanto è vitale per noi è fuori di noi, diverso da noi. E dobbiamo chiederlo. Dobbiamo chiederlo. E' interessante questo sospetto plurimillenario che gran parte della, non tutta, gran parte della tradizione cristiana ha riservato nei riguardi del bisogno. Erede di Platone che è stato il primo, almeno ufficialmente, a considerare il bisogno come segno del limite e in quanto segno del limite, segno del male, dell'imperfezione. Un segnale troppo stretto che ci imparenta, che ci apparenta con il mondo animale. Sicché tra i compiti è liberarci dal bisogno, dare adesso il meno interesse possibile e considerarlo in fondo insignificante per ciò che è veramente umano. Ma proviamo a stare su questa esperienza che facciamo tutti. E tra l'altro, stando i serafini, anche in questa esperienza, dovremmo vedere la gloria di Dio. Vediamo se i serafini hanno ragione. Allora, intanto il bisogno non è qualcosa di mutuo, di brutto, ma è un'esperienza e come tale dice qualcosa. Dice delle cose assolutamente elementari, ma sono così difficili che noi non riusciamo neanche ad ascoltarle. La prima cosa che il bisogno, la fame, ci dice, la fame e la sete, ma il bisogno sessuale, la prima cosa che il bisogno mi dice è che io non sono l'unico, non sono l'unico essere al mondo. Ora, lo sappiamo tutti che non siamo gli unici esseri al mondo, ma spesso noi pensiamo come se fossimo gli unici esseri al mondo. Allora, il bisogno, quando parla di sé, io ho fame, parla già d'altro. Voglio il pane, voglio l'acqua, voglio il vino, voglio la torta, voglio la carne e così via. Allora, il bisogno mi obbliga con un linguaggio tutto carnale a ridimensionarmi e a riconoscere che io non sono l'unico essere al mondo. La seconda cosa che il bisogno ci dice è questa, qui rasentiamo l'offesa, il bisogno è offensivo. La seconda cosa che il bisogno ci dice è che quello che è fuori di me, quello che è altro da me, un panino, una bibita, è buono. Il che significa che c'è del buono fuori di me. Il bisogno, con un linguaggio tutto carnale, è, potremmo dire, una grande cura contro il cancro dell'anima che è l'invidia, che è l'incapacità di ammettere che ci sia del buono al di fuori di me. Un pensiero buono al di fuori del mio pensiero, una sensibilità buona al di fuori della mia, un costume buono al di fuori del mio. No, la fame di tutti i giorni ti dice guarda che esiste qualcosa che è fuori di te e che è proprio diverso da te, non sei un panino, ma che tu devi ammettere che è buono anche se non sei tu. E poi qui davvero il bisogno arriva all'insulto. Esiste qualcosa che non sei tu. Esiste qualcosa che non sei tu e che è buono. Esiste qualcosa che non sei tu e che è buono e che è necessario e vitale per te. Il che significa se tu non mangi muori, se tu non bevi muori, se tu non dormi muori. E poi guardate, il bisogno, la fame per esempio, è nello stesso tempo qualcosa che incoraggia, che motiva. Se c'è qualcosa di buono, sono motivato, sono mosso, è una motivazione, è un motivo, sono mosso ad agire. Prendo quella cosa buona e la mangio. O voglio procurarmi una cosa buona per mangiarmela. Quindi il bisogno, la fame, è per certi versi un grande motivatore, un grande incoraggiatore nella vita. Ma allo stesso tempo la fame e il bisogno ci dice basta, basta così, è sufficiente. Nello stesso istante in cui ci incoraggia il bisogno ci dice basta, hai mangiato abbastanza, hai bevuto abbastanza. quando noi vediamo il bisogno deformato in chi magari è proprio, noi diciamo in maniera errata, impadronito, schiavizzato dal bisogno, nel goloso, nel lussurioso, chi mangia molto di più di quanto ha bisogno, beve molto di più di quanto ha bisogno, si impone una vita sessuale molto di più di quanto ha bisogno, noi pensiamo che questo è schiavo del bisogno. In realtà quella persona ha violentato il proprio bisogno. perché impone al suo corpo di mangiare quando il corpo non ha più fame, impone al suo corpo di bere quando il corpo non ha più sete. Il goloso non è il risultato della cieca, potentissima forza, impulso del bisogno. No, no, no. Il goloso è il risultato di una libertà, di una libertà e di una intelligenza che impongono al corpo una cosa che il corpo non vuole. proprio per questo il bisogno ci insegna il senso della abbastanza, del basta e dell'abbastanza. Se noi capissimo quello che il bisogno ci sta dicendo, guarda che ci sono delle cose che possono bastare, che ti bastano, avremmo risolto il 90% dei problemi del mondo. perché il 90% dei problemi del mondo nascono dalla mancanza del senso dell'abbastanza. Mi basta. Se noi ascoltassimo il bisogno, liberati dall'invidia, risolveremmo l'altro 10% dei problemi del mondo. Allora la domanda che mi viene è questa, cioè non è che forse il sospetto nei riguardi del bisogno non sia stato motivato tanto dal fatto che sia una forza cieca, brutta, insignificante, ma dal fatto che il suo magistero era così sensato e così esigente che abbiamo preferito denigrarlo pur di ascoltarlo. Il bisogno del corpo è troppo intelligente, è troppo esigente, allora preferiamo relegarlo nell'animalità, così abbiamo la scusa per non ascoltarlo. ebbene, anche lì, anche lì, si incontra, anche lì nel bisogno, anche il bisogno è pieno della gloria di Dio. Ora, è interessante e anche un po' commovente l'attenzione di Cristo alla fame e alla sete, alla propria fame e alla propria sete, e alla fame e alla sete degli altri. Ci ha consegnato questo comando, prendete, mangiate, prendete, bevete. Ma come fai a mangiare e a bere il corpo di Cristo se manco capisci l'ABC della colazione che hai fatto stamattina? E questa insistenza di Cristo sul chiedere, bussate, vi sarà aperto, domandate, chiedete, vi sarà dato. la prima richiesta che noi abbiamo fatto è quella fondamentale, è la fame, è la sete. E non è la fame e la sete il bisogno, qualcosa di transeunte. Beh, adesso siamo ancora qui nell'economia della carne, poi dopo la risurrezione dei morti siamo tutti liberati, tra le altre cose, dalla schiavitù del bisogno. Ma abbiamo letto il capitolo 28 24 del Vangelo di Luca che non parla solo dei discepoli di Emmaus ma parla anche del risorto che dice sentite, avete qui qualcosa da mangiare? Gli diedero un pezzo di pesce arrostito, lo prese e lo mangiò davanti a loro. se è una delle immagini più belle anche quelle che ci è stato ricordato domenica scorsa nella prima lettura e anche nel Vangelo è un banchetto di nozze, è un banchetto di grandi, di vini succulenti, di cibi raffinati. Beh, è una cosa un po' antipatica se il paradiso sarà un grande banchetto e noi saremo liberati dalla fame. è una cosa un po' antipatica. Forse una delle cose del paradiso sarà proprio questo, che noi finalmente in quel posto capiremo che cosa il bisogno, la fame e la sete ci hanno detto per tutta la vita. Forse anche in questo sta il paradiso. E tra l'altro non abbiamo tempo ma sarebbe interessante anche per questo vedere cioè ogni bisogno umano fame, sete, sonno, il bisogno sessuale è vissuto sempre culturalmente e anche questo è qualcosa che accomuna tutta tutta la realtà umana. Noi non siamo come gli animali che mangiano e bevono. Noi ci ceniamo, pranziamo, facciamo colazione, cuciniamo. E la cucina è un atto culturale dove compiamo operazioni stranissime opposte tagliare e unire scartare e aggiungere mettere insieme cose che non c'entrano niente il salato, l'acido, il dolce, l'aspro e per cucinare bisogna rispettare le cose, i tempi, gli strumenti e per cucinare non è sufficiente la buona intenzione. Io devo sapere che cosa il mio ospite può mangiare e non può mangiare. Deve mangiare e non deve mangiare. Non basta la buona intenzione. Se io sono un esperto nel fare le meringate e al mio ospite preparo la mia meringata a capolavoro ma lui è diabetico, io gli faccio il male l'atto del nutrire che è sempre un atto culturale è un atto grandemente etico. Come faremo a capire che Cristo è il pane disceso dal cielo che lui ci porta l'acqua della vita che lui ci dà il vino della gioia senza capire la prima parola di carne e di sangue che è un Vangelo di carne e di sangue a disposizione di tutti. Di tutti quelli che sono sotto l'economia della creazione che non sono soltanto i cristiani. potremmo dire che Cristo è l'evangelizzatore del mondo ma anche colui che ascolta più di altri il Vangelo che è già iscritto nel mondo dalla parola e dalla creazione. Un secondo vado molto più veloce un secondo luogo comune a tutto l'umano che merita di essere abitato pensato per la sua potenza teologica per la sua strategia evangelizzativa e per la sua energia umanizzante è questa cosa ripeto assolutamente banale e assolutamente universale che è il rapporto delle mani con le cose. Beh intanto il fatto che abbiamo due mani noi non saremmo chi siamo senza le mani prima il rettore magnifico ricordava il discorso del santo padre che parlava di intelligenza non soltanto di questa ma intelligenza delle mani anche perché sappiamo tutti bene che noi non avremmo questa intelligenza senza le mani senza le mani noi siamo gli unici esseri noi siamo uomini e donne non soltanto perché abbiamo il cuore perché abbiamo l'intelligenza noi siamo uomini e donne perché abbiamo le mani sì altri primati hanno le mani però prova a chiedere a uno scimpanzé di sistemarti l'orologio prova a chiederti a uno scimpanzé di operarti di appendicectomia dove chirurgia che irurgia vuol dire proprio lavoro delle mani non per nulla un mentale come Kant diceva che queste sono il nostro cervello esterno e San Tommaso diciamo sulla scia di Aristotele dice l'anima è come le mani le mani sono come l'anima perché le mani prendono distinguono sanno soppesare sanno indicare tu e non tu quella cosa e non l'altra siamo gli unici a fare così gli unici viventi e le mani ci permettono ci hanno permesso di esprimere i nostri pensieri i nostri affetti noi contiamo a base non per niente ma perché abbiamo dieci dita e guardate questo funziona molto nella lingua italiana guardate questo verbo assolutamente manuale pratico pratico che è prendere è alla base di verbi e di azioni che noi considereremo molto più spirituali comprendere apprendere cosa vostra studenti e studentesse ma anche anche noi professori dobbiamo apprendere intraprendere lasciarci sorprendere prendere da sopra dimmi come prendi le cose e ti dico come apprendi dimmi come prendi le cose e ti dico come ti lasci sorprendere come comprendi come intraprendi beh vorrà dire qualcosa se si può fare tutta una cristologia a partire da come Gesù ha usato le mani e in uno dei momenti più sintetici della vita del Signore sia diciamo nella stessa sequenza gestuale sia nella moltiplicazione dei pani sia nell'ultima cena Gesù noi saltiamo subito naturalmente i verbi più spirituali spezzò donò benedisse ma tutto tutti gli altri verbi benedire spezzare donare poggiano su questo verbo manuale che è prendere Gesù prese il pane e il verbo prendere lì è reso in greco con lambano che è un verbo un po' strano come il to get inglese perché è un verbo che vuol dire sia prendere sia ricevere per cui dire che Cristo prese il pane prese il calice del vino vuol dire anche che Cristo ha preso come se avesse ricevuto Cristo ha preso come se avesse preso un dono per questo subito dopo ringrazia allora c'è addirittura una cristologia c'è addirittura una cristologia a partire dalle mani ma le mani non sono nate per niente non sono nate da sole le mani anche le nostre sono così perché fin dall'inizio proporzionato la nostra crescita anzi la nostra crescita è stata proporzionata a questo si sono sempre di più adattate alle cose le cose sono una cosa meravigliosa intanto visto che siamo a Roma la cosa la parola speciale per dire cosa in latino è res che probabilmente deriva da una radice altoiranica indoeuropea che vuol dire bene per cui tutte le cose noi le consideriamo un bene un bene poi nel latino medievale si è preferito usare la parola causa da cui deriva l'italiano o lo spagnolo cosa francese shows e così via allora vedere le cose come una causa cioè come un processo intentato come se le cose ci chiamassero in causa per riconoscere le loro ragioni tra l'altro anche in tedesco Ding ha alle spalle probabilmente proprio un'assemblea popolare per decidere la ragione o il torto di qualcuno e tra l'altro cose che sappiamo tutti le ribadisco in tedesco Ding cosa è la radice per dire Duncan scusate Denken pensiero per dire Duncan ringraziamento senza Ding non c'è Denken non c'è Duncan Senza Thing non c'è Think non c'è Thank Ora queste cose che ci chiamano in causa perché ci chiamano in causa perché vogliono che noi riconosciamo le loro ragioni quali sono le ragioni delle cose di tutte le cose anche di questo microfono le ragioni delle cose potremmo dire il loro magistero perché c'è un magistero delle cose sono almeno due le prime la prima le cose sono alla mano sono disponibili questo foglio è alla mano questo microfono è alla mano sono disponibili sono servizievoli sono umili sono sempre pronte noi abbiamo prodotto in noi il senso di fiducia e di affidabilità anche grazie alle cose anche grazie a quella cosa stabile sulla quale noi abbiamo gattonato fin da bambini e bambine che si chiama pavimento senza quella cosa noi non avremmo il senso di fiducia che ci permette di aspettare un treno di credere che chi ci ha dato un appuntamento verrà e di credere in Dio le cose sono le nostre grandi maestre del senso della fiducia proprio perché noi ci stupiamo se una cosa non funziona perché normalmente funzionano ma e questa è la seconda cosa nello stesso istante in cui le cose ci dicono ci dicono sono qui per te sono a disposizione ci obbediscono obbediscono alle nostre mani nello stesso istante le cose ci dicono un severissimo no e dichiarano una indisponibilità totale io posso appoggiarmi a questo leggio ma posso star qui fino al ritorno del signore che non riuscirò ad attraversare questo leggio con il mio indice perché questa tavola di legno mi dice tu arrivi fino qui oltre no il microfono mi sta servendo benissimo ma se io lo tratto male non lo rispetto non gli obbedisco io rompo il microfono e ho perso il microfono le cose sono un tremendo un grandioso sì alla mia handling alla mia azione che è una cosa di mano ma un severissimo no no forse anche qui noi le cose le trattiamo come cose perché ci incoraggiano quando non vorremmo essere incoraggiati stando dentro a questa specie di anima depressa e nichilista oppure le trattiamo come cose non vogliamo ascoltarle perché ci dicono dei no e noi i no non vogliamo mai sentirli le cose ci creano un'esperienza di lutto però amici disponibilità servizio indisponibilità no sono l'abc delle relazioni dimmi come tratti le cose adesso noi preferiamo sostituirle se una cosa non funziona anziché ripararle esattamente come le relazioni se non funziona si sostituisce non si cerca di ripararla evora pur ben dire qualcosa quando la prima pagina del Vangelo di Giovanni ci dice parlando del verbo che per mezzo di lui furono fatte tutte le cose non so come ma anche questo microfono come non lo so ma anche questo microfono c'entra con Cristo tutta la terra è piena della sua gloria anche la sedia sulla quale mi sto sostenendo adesso c'entra con Cristo perché tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui se non hai capito la lezione Colossesi te la ripete al capitolo primo se non hai capito la lezione Efesini al capitolo primo te la ripete quando parla del corpo di Cristo che è fatto dalla testa che è lui dalla chiesa e da tutte le cose ma come puoi capire Cristo se non apprezzi le cose come puoi parlare di Dio se non dai il giusto peso al fatto che creandoti ti ha sempre messo in contatto con le cose non c'è un istante della nostra vita in cui noi non siamo in contatto con qualcosa avrà pur da dire qualcosa questo fatto e se Cristo è così geloso delle cose che stando all'Apocalisse farà nuove gli uomini e le donne farà nuove gli animi no farà nuove tutte le cose allora è possibile che questa esperienza così universale così umana e così specificamente nostra non possa essere anche una soglia un varco di incontro per incontrare tutti gli uomini e le donne di questo mondo ho ancora un minuto anzi non ne avrei più ma ne uso ancora uno per parlare della terza ma soltanto per indicare la terza esperienza che purtroppo non è di tutti purtroppo non è di tutti anche qui è un luogo dove emerge l'ingiustizia purtroppo non è di tutti ma sarebbe di per sé tipicamente umana è quello che riguarda noi come studenti come docenti che è quello dello studio tutti gli uomini e le donne possono studiare è una parola grossa diciamo che tutti gli uomini e le donne studierebbero se a loro venisse concessa la possibilità di studiare in ogni caso studiano i cristiani i non cristiani i credenti i non credenti e così via studiano tutti è un'altra cosa comunemente umana allora per studiare veramente dico soltanto una cosa bisogna star fermi è vero che puoi studiare anche camminando ma per studiare tu devi interrompere il flusso normale della giornata ecco mi soffermo soltanto soltanto su questa interruzione per studiare tu devi interrompere qualcosa l'interrompere la cessazione l'interruzione è l'elemento fondamentale indispensabile della festa c'è il quotidiano e poi c'è l'interruzione la festa mi ha sempre colpito e finisco davvero il capitolo quinto e mi ha sempre messo molto a paura e vi dico la verità che quando nella lettura continua dei Vangeli e della Bibbia arrivo alla fine del capitolo quarto di Marco spero che il sudore sull'indice mi permette di saltare quel capitolo capitolo quinto del Vangelo di Marco è tra l'altro il racconto della liberazione da parte di Gesù di un indemoniato e Marco fa tutta una sintomatologia della possessione diabolica questo qui si picchiava con le pietre si lacerava urlava andava in giro nudo non abitava in casa ma abitava nei sepolcri euforico saliva sui monti depresso andava giù nei sepolcri noi siamo rapiti da tutta questa e potremmo saltare un piccolo importantissimo dettaglio che Marco ci dice quell'uomo faceva queste cose continuamente questa questo è il diabolico fare una cosa continuamente anche una cosa molto buona senza interruzione come gli schiavi in Egitto che continuamente dovevano lavorare senza sabato senza la domenica ecco studiando voi interrompete il continuamente studiando voi obbedite a quel comando di Gesù che dice se devi veramente fare qualcosa di vitale che ti serve proprio per la vita per esempio costruire una torre perché tutto il lavoro funzioni meglio e tutta la tua famiglia e i tuoi cari godano e siano al sicuro oppure se sei re e un esercito nemico viene contro la tua nazione contro il tuo popolo e tu devi difendere il tuo popolo insomma se devi fare qualcosa di vitale interrompi fermati siediti tutte cose che fanno uomini e donne di tutti e studia buon lavoro per quest'anno di studio bene ringraziamo di cuore Monsignor Pagazzi per questa bellissima illustrazione del senso che ha abitare nell'umano così da cogliere fino in fondo e coglievi lo splendore della grazia di Dio segue ora un intervento musicale che normalmente è un brano presentato a noi sempre dai giovani dell'Accademia degli Ostinati loro si stanno preparando a eseguire questo brano e sarà ancora un momento un attimo di silenzio di movimento piacevole per meditare rimeditare questa bellissima e profonda prolusione che abbiamo ascoltato e i giovani dell'Accademia degli Ostinati ci presenteranno il brano dal concerto in fa maggior autunno di Antonio Vivaldi un brano primo movimento allegro allora già diamo un brevissimo applauso per incoraggiarmi grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Barbara, Grazie a tutti. Alessandro, Maria, ed Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.